Cosa racconta il rendiconto 2015? Innanzitutto diciamo che il rendiconto avrà un dato importante, vale a dire che avremo anche un risultato utile di gestione di 15 milioni di euro, che rapportato ai anni precedenti abbiamo una variazione addirittura del più 524% rispetto al 2013. Sono dati importanti. Io dico che il rendiconto del 2015 è come una forma di pagella per l'amministrazione, con cui l'amministrazione dimostra quello che è saputo fare e quello che è stato in grado di fare all'interno del 2015. I dati sono importanti. Dicevo anche prima a qualche suo collega che oltre a questo per esempio una novità importante è che il Comune di Pescara guarda anche al futuro. Abbiamo predisposto un fondo di 10 milioni di euro, quasi 11 milioni, per l'eventualità dovessimo perdere delle cause in futuro, per evitare che il Comune ha delle cause in corso, che potrebbe comportare anche la soccombenza, significa dove trovare quelle risorse. Significa anche pianificare il futuro e su questo diciamo che noi con questo bilancio, diciamo la città di Pescara, abbiamo superato l'emergenza ma ancora siamo usciti completamente dal guado, però possiamo guardare al futuro con una forma di speranza. Ricordiamoci che quando entrammo noi nel 2014 avevamo le casse completamente in difficoltà, avevamo un Comune in difficoltà. Questa è una dimostrazione che il predisesto è stata l'iniziativa giusta che ha preso questa amministrazione, perché è il momento in cui c'è la possibilità di default, di fallimento. Attuando la procedura di predisesto, che noi abbiamo applicato alla lettera, ci consente di essere usciti da questo momento di difficoltà e i conti iniziano a dare i primi segni. Logicamente se non avessimo un posto in essere quell'attività, quelle misure, oggi sicuramente non saremmo qui a poter parlare di questi conti, anche otte con questi risultati che sono veramente eccellenti. Per quanto riguardano invece le entrate proprie, proprio la procedura di predisesto che richiamava lei, obbliga il Comune a lasciare le tasse inalterate.